Sequestrati 250 kg di bianchetto nell'ambito delle attività di contrasto alla pesca illegale di novellame. Prosegue senza sosta l'attività di intelligence della Guardia Costiera che lungo la strada statale 106 Ionica all'altezza di Amendolara ha fermato un furgone sospetto a bordo del quale sono state rinvenute 43 cassette di polistirolo contenenti novellame di sarda per un totale di oltre 250 kg. Denunciato alla procura il proprietario del mezzo un coriglianese per detenzione e trasporto di esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima ovvero novellame. Il prodotto ittico giudicato non idoneo al consumo umano dai veterinari dell'azienda sanitaria provinciale è stato avviato alla distruzione. Quest'ultimo sequestro si aggiunge agli oltre 130 kg di novellame già sequestrati a marzo nell'ambito della vasta operazione Rostrum coordinata dalla direzione marittima di Reggio Calabria nel corso della quale erano stati elevati anche quattro verbali amministrativi per oltre 7.000 euro. Il controllo alla filiera della pesca da parte della Capitaneria di Porto di Corigliano diretta dal capitano di Fregata Francesco Perrotti prosegue con tolleranza zero verso coloro che affettuano attività illecite in mare danneggiando le risorse ittiche danno innanzitutto della stessa categoria dei pescatori professionali e di quanti dal mare traggono risorsa per il sostentamento.